Dopo aver riaperto il Castello della Monica, chiuso da anni e avviato i lavori per il Teatro Romano, ora l'amministrazione d'Alberto punta a riqualificare il Teatro Comunale. Questo grazie a 10 milioni di euro provenienti dal PNRR. Sì, grandissimo risultato, l'ottenimento del finanziamento, 10 milioni di euro per una riqualificazione integrale, come giustamente ricordava lei, e io direi una restituzione finalmente di un teatro comunale degno di una città capoluogo e soprattutto recuperando anche la storicità, la storia di un teatro che deve costituire un punto di riferimento per lo sviluppo della vocazione culturale della nostra città. Un lavoro che abbiamo portato avanti partecipando al bando con la Fondazione Tercas, che ringrazio. Il progetto iniziale era un progetto condiviso con la stessa Fondazione, che continuerà ad essere ovviamente un interlocutore. Abbiamo chiuso la fase burocratica nel corso di queste settimane con il Ministero, siamo in fase di affidamento della progettazione e ovviamente anche di apertura da settembre di una interlocuzione con la città, con la comunità, come abbiamo già detto, con un obiettivo, quello di non limitarci a mettere le cosiddette pezze o piccole sistemazioni del teatro, ma una profonda riqualificazione che io mi auguro possa anche valutare l'ipotesi di una demolizione e ricostruzione. Però insomma questo è un tema che dovranno affrontare ovviamente i tecnici, ma l'obiettivo è assolutamente quello di restituire, come dicevo prima, il teatro alla città. I soldi ci sono per tradurre in pratica l'idea di ridefinire uno spazio culturale di riferimento per la città, nella sua collocazione storica, lì dove sorgeva l'antico teatro abbattuto nel 1959, per fare spazio alla standa capostipite dei grandi magazzini, è allora simbolo della modernità. Le tempistiche così stringenti sono sì, diciamo così preoccupanti, perché comunque richiedono delle accelerazioni, ma nello stesso tempo sono oltre che ambiziosi sfidanti e quindi sono certo che per un'opera così importante, strategica, per il rilancio di Teramo Città Capoluogo, che grazie a noi sta vedendo finalmente una luce diversa, partendo dall'evocazione culturale, rispetteremo assolutamente queste tempistiche, cercando un confronto il più possibile ampio con la comunità.